E' prevista per la prossima settimana la firma della convenzione fra il comune di Sulmone e la Camera di Commercio dell'Aquila per l'allestimento di spazio Ovidio, l'opera che nasce in seno all'ex convento di Santa Caterina per celebrare il poeta Peligno e per promuovere la cultura. A darne notizia è il presidente della Camera di Commercio dell'Aquila, Francesco Santilli, oggi a Sulmone per il primo incontro di concertazione con il territorio sul bimilenario della morte di Ovidio. Quello che ci riguarda eravamo già pronti l'anno scorso, quindi quest'anno poi le vicende amministrative del comune di Sulmone hanno ovviamente rallentato il percorso burocratico. Credo che in settimana l'atto di accordo con il comune sarà sicuramente siglato, per cui si darà via al bando e poi Spazio Ovidio avrà un suo percorso e una sua funzione. Come Camera di Commercio teniamo molto a questo evento, aggiunge Santilli, elevare la conoscenza del nostro territorio significa assicurare un supporto all'economia e allo sviluppo. Noi svolgeremo il nostro lavoro mettendo a disposizione le nostre strutture, d'altronde conclude è un lavoro dovuto. Per la realizzazione di Spazio Ovidio la Camera di Commercio ha stanziato una somma di 250 mila euro. 100 mila euro sono usciti invece dalle casse comunali, grazie all'interessamento dell'ex amministrazione di centro-sinistra guidata da Peppino Ranalli. Altri fondi si potranno attingere del 250 mila euro, che erogherà la Regione con il disegno di legge su Ovidio 2017.